Dalle 22 di venerdì 22 aprile alle 6 di sabato 23 saranno chiusi al traffico il tratto della 4 compreso tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest direzione Milano e i relativi svincoli di entrata nel casello di Vicenza Est. Dalle 22 di sabato 23 aprile alle 6 di domenica 24 saranno chiuse al transito il tratto della 4 compreso tra i caselli Vicenza Ovest ed Est direzione Venezia. Le chiusure si rendono necessarie per consentire di effettuare alcuni lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada 4 Brescia Verona Vicenza Padova. Informazioni sulla situazione viabilistica sono disponibili sul portale Luce Verde Vicenza.